Sorridente come sempre, ecco allora dalla Germania, Schirchenko Jeske che hanno tentato di ritornare per l'anno olimpico ma che poi si sono ritirati poco prima della qualificazione Questo è un tema ricorrente, ne parleremo oggi perché diversi pattinatori hanno deciso di tornare proprio in questa stagione per preparare il 2010, il caso di Lambiel, il caso di Schirchenko e altri ancora Lei è stata una grande campionessa da singola nel 94 bronzo mondiale e dopo si era data un po' allo spettacolo ha partecipato a film e serie tv per poi questa grande notizia dopo anni di rientrare come coppia però hanno avuto entrambi un buon percorso individuale e poi si sono messi in coppia Grazie a tutti! Questo è uno dei nuovi sollevamenti o meglio per le nuove regole del nostro sport Che è sempre in evoluzione Esatto, ogni anno abbiamo qualcosa di diverso, qualcosa in più Daniele Shevchenko e Norman Jeske Dalla Germania Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!